ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita questo è un video un po particolare perché parliamo di elix 2 uscito all'inizio di marzo e che in modo del tutto inaspettato la thq mi ha fornito il gioco io avevo fatto un video che è stato forse uno dei più visti sul canale su elix 1 io lo pronuncio all'italiana intitolandolo se fosse oro quello che non luccica ecco lo stesso discorso può valere per questo titolo per questo sequel l'argomento è abbastanza succoso quindi ve lo faccio ve lo spiego mentre ci guardiamo l'inizio io non voglio spoilerare molto la storia ma in sintesi che cosa cosa succede voi siete gli eroi del primo gioco dopodiché l'avventura finisce lui resta un po nell'anonimato ma è un eroe poi succede qualcosa lui praticamente dimentica le sue abilità ripartite da zero ma le fazioni diciamo sono un po cambiate il mondo è cambiato e si trova di fronte a un ennesima minaccia qua c'era una trappola una delle grandi aggiunte che sono state fatte che sono tante cazzini come questa che l'uno latitava un po e le trovo fatte molto bene ma il gioco ha altre criticità e di cui voglio parlarvi lo proveremo vedremo un po l'aspetto tecnico di cui tutti hanno parlato un po così perché perché praticamente il gioco lo si definisce un po anacronistico per il giorno d'oggi ma il mio ragionamento è che cosa ci offre realmente in più rispetto a tanti altri titoli non l'aspetto tecnico di sicuro ma sul sulle altre cose l'intelligenza artificiale allora non ditemi che uno skyrim avesse sta grande intelligenza artificiale questo non lo voglio non dico perché voglio salvare tutti i costi elex ma come sorta di ragionamento quali giochi dove voi uccidete qualcuno i nemici intorno dopo un po tornano le loro routine quanti non tornano le loro routine pochi serve un gran lavorone alle spalle degli sviluppatori no è anche un grosso studio e non è questo il caso quindi elex è un gioco di ruolo action con dei problemi ma andiamo a vedere perché questo gioco se voi siete stati dei giocatori di vecchia data di gothic gothic 1 2 3 reason 1 2 non oltre non spingo oltre piuttosto che di altri titoli magari un po più un po più datati avete apprezzato anche appunto quei giochi che una volta erano piuttosto difficili questo è sicuramente un gioco che fa per voi ma breve appena finisce l'animazione qui vedremo tutto il video anzi magari ve lo salto perché vi spoglierò la storia lui in pratica lui in pratica fugge viene salvato da un vecchio e questo vecchio gli dice di raggiungerlo gli anzi lo andiamo lo andiamo a vedere perché non non l'abbiamo ancora incontrato in realtà il vecchio allora vedete si può giocare mouse tastiera o il col pad il gioco presenta subito una criticità quando voi impugnate l'arma non vi inquadra gli oggetti da prendere quindi dovete infoderare l'arma e potete prendere gli oggetti il mondo è pieno sia di oggetti di magari erbe o sassi vari che potete usare per il crafting quello che è il problema di questo gioco è l'aspetto tecnico infatti vedete che si incastra un po salti saltella infatti su questo se avete giocato magari ad elden ring o a un un souls in generale è meglio il pad si può poi rotolare poi secondo me è meno legnoso del primo dark souls però qui è tutta questione di gusti si va a combattere si combatte contro i primi nemici ci sta spiegando che dobbiamo tenere d'occhio la la stamina ma questo lo si faceva da sempre non l'hanno introdotto i souls abbiamo sconfitto primo nemico e qua vediamo gli oggetti da prendere si luta tutto si guarda anche cosa si sta prendendo stiamo prendendo dell'acqua vedete che poi avvicinandomi si è arrampicato ma si è arrampicato su una scatola cioè ci sono questi piccoli problemi tecnici che non sono dal mio punto di vista assolutamente bloccanti perché la mappa è assolutamente enorme ma avete visto che mappa penso poi ci siano anche i teletrasporti ma avete anche il jetpack per viaggiare in alto però è ricca di cose che magari potete elutare potete questi questi mostri che voglio ucciderle ma arrivo al fulcro di questo titolo adesso mi fanno il paiolo perché sono in due allora la grande difficoltà di questo gioco è che assolutamente all'inizio ci sono un sacco di zone dove non potete andare e dove vi uccidono come niente qua mi è andata bene perché è una sorta di tutorial ma il gioco è veramente difficile anche a livello magari normale però mi mette in difficoltà poi vedete io adesso ho appreso la cosa che togliendo la l'arma posso lutare però vedete che ancora queste questi piccoli problemi in cui vado a saltare sopra la scatola ma è semplicemente perché non uso il pad quindi la tastiera non mi permette di graduare il controllo ma questo a me non dà fastidio dovete valutare il ex come uno di quei giochi di cui non ne fanno più perché adesso vabbè dovrei andare di là ma in realtà si può andare anche di qua e qua potrei dare un'occhiata a cosa trovo perché questo piccolo questa piccola deviazione vediamo che cosa mi può portare ma direi che non è il caso seguiamo la via perché non vorrei mai complicare la vita a rompere il gioco c'è fondamentalmente una cosa molto interessante in questo titolo ed è il fatto che a differenza dei giochi moderni dove magari i finali sono multipli ma derivati magari da una scelta che fate proprio sul finale quindi ricaricate e poi provate l'altro finale questo cambia in base alle vostre scelte cioè potete scegliere di denunciare un tizio ucciderne uno piuttosto che salvarne un altro unirvi a una fazione piuttosto che unirvi a un'altra quindi mi ricordo vi faccio l'esempio perché alla fine è uguale gothic 1 ci si poteva unire mi pare la corporazione dei guerrieri dei maghi non erano maghi erano qualcos'altro comunque di molto simile oppure a questa setta che viveva nelle paludi e cercava lo dava il questo dio il dormiente io mi ho appassionato a loro e quindi quella che era diventata per me casa ed era magari vedete che bei video era diventata magari un luogo di noia per altri giocatori per me la palude di degli adepti del dormiente era casa così come magari quei villaggi gestiti dai guerrieri erano casa per altri stessa cosa capita in elex dove ci potremmo unire una corporazione e magari faremo missioni anche contro le altre ma questo ci cambierà il gioco ci cambierà gli amici che troveremo all'interno del gioco l'equipaggiamento che andremo ad utilizzare anche rispetto magari punti abilità che assegneremo ma soprattutto i luoghi a cui avremo accesso per tutta la durata dell'avventura e questo potrebbe cambiare ovvio la storia in sé poi sarà comunque quella ma il modo i sentieri che utilizzeremo per arrivare al finale cambieranno in base alle scelte che faremo quindi questa è una cosa importante che pochi giochi hanno infatti si può criticare elex 1 e 2 finché si vuole ma il gioco è vecchio stile ha qualche problema tecnico è un po è legnoso indubbiamente ma resta ancorato a quelle innovazioni che c'erano vent'anni fa ma che adesso non si trovano quasi più se voi amate un gioco come non so dragon age origins l'uno lì sì c'erano scelte ma oggi cosa giocate cioè si può dire quello che si vuole di di elex ma non che dietro abbia un team che non gliene frega niente del gioco perché magari per difetto loro non riescono a porre fine a questa lignosità del titolo ma quello che ha il gioco in sé come caratteristiche come svolgimento come scelte multiple come libertà di azione ce ne sono pochissimi in giro quindi qual è il vostro ostacolo in questo titolo l'ostacolo più grosso non è se il fatto un gioco vi piace o meno a livello non mi piacciono i giochi di ruolo no se vi piacciono i giochi di ruolo questo potrebbe piacervi ma se cercate qualcosa di estremamente ottimizzato estremamente plastico come si trovano adesso tanti altri giochi non fa per voi non non è il vostro perché questo gioco da quella soddisfazione che ho io ho trovato solo nei dark souls parlano di questo figlio che di cui non sapevo nulla ma in pratica non ve lo spoilero praticamente lui ci da dice che il figlio e via dobbiamo raggiungere un posto e si salto la conversazione perché inizia la missione poi adesso diamo un'occhiata anche ai menu diamo un'occhiata al jetpack e sicuramente se vi piacciono i giochi di ruolo questo può essere se passate sopra questi difetti di leniosità quello senza dubbio se siete dei giocatori molto giovani io dubito che questo vi piacerà perché siete abituati a bin alton ma se avete fatto la gavetta come me con giochi che comunque non erano ottimizzati io giocavo anche quei giochi dragon's lore per chi di voi lo conosce sa quanto è ingiocabile oggi con cliccare poi lui andava lì c'era la cinematica che ti come i primi misti in pratica e io quel gioco lì l'ho finito pensare di finirlo oggi io non l'avrei mai finito un gioco del genere allora non si fida del giudizio del vecchio in pratica ora abbiamo il jetpack ce ne ha fornito uno e grazie al jetpack possiamo salire magari cosa c'è qui ovviamente col pad siete più facilitati senza dubbio però dovete farci un po l'abitudine perché vedete adesso io se sapete che potrei anche giusto per darvi un'idea perché io lo avete visto giocare l'ho visto giocare anch'io sul tubo su twitch ma nessuno ha mai fatto una cosa come questa cioè andare ad analizzare proprio tutti i movimenti e darvi il feedback ecco io vi dico che con il jpad sì che con il pad è decisamente un pochino più un pochino meno legnoso vediamo un attimo devo trovare qua del salto questo è la selezione veloce degli oggetti questo apri il menu apri vari menu di abilità adesso andiamo a vedere anche quello questo è lo stealth sfoda l'alarma dal calcio cosa che si fa anche vi faccio vedere anche com'è com'è il la segnazione dei tasti del controller ok raccoglie usa gli slot veloci lo scatto sì no il jetpack con il tasto dietro quindi questo vedete ok no è più preciso decisamente più preciso poi resta legnoso perché vedete adesso io sono finito qui dentro ed è un po un problema però lui si arampica interagisce cioè non è adesso non voglio farvi cose magari troppo no no ma molla mollami ok voglio prendere questa porzione perché mi interessa l'arco semplice curativa dicevo che è un gioco che comunque vi dà quella soddisfazione che io ho trovato solo in un souls dove magari non intendo riguardo i boss ma intendo riguardo alle difficoltà del mondo nel senso che vagate in una zona e morite magari quella zona non fa per voi andate altrove e poi ok dopodiché riuscite a fare delle missioni ottenete degli oggetti grazie alla vostra bravura riuscite a completare delle missioni vi danno delle armi magari armi da fuoco armi laser insomma quelli che sono perché questo è un ambiente post apocalittico la soddisfazione che ne trarrete sarà senz'altro ottima perché comunque magari prenderete anche l'abilità di scassinare e quindi inizierete a scassinare è un gioco che non è sicuramente esente da problemi quello l'abbiamo detto più volte adesso vediamo se ce la caviamo contro questo questo è già un pochino piuttosto degli altri ma alla fine va giù possiamo lutarlo vedete che ho preso della carne adesso vi faccio vedere il menu gli attributi questi salgono li potete aumentare e vi danno in modo semplice danni a corpo e da colpo critico l'intelligenza danni magia perché c'è anche una sorta di magia danni a distanza con la destrezza la costituzione punti salute massimi e la forza più danni corpo a corpo poi ci sono le abilità qua quando salite di livello vedete che qua ci sono anche l'allineamento in base alle scelte che faremo possiamo andare a potenziare varie cose che riguardano il combattimento quindi il danno che facciamo la sopravvivenza la creazione quindi talenti di crafting quindi possiamo creare dalle armi semplici le migliori le complesse così che creare munizioni pesanti semplici la personalità ecco questo è molto importante cioè potete dare appunto avere a livello di magari di apprendimento di sconti per i venditori gli insegnanti più economici oppure questa è molto bella due due punti soltanto cioè due livelli soltanto bravo con le parole perché anche qui risolveremo tante situazioni con le parole il berserker quindi la possibilità di scatenare palle di fuoco fare varie cose ci sono gli incantesimi e le skill alba per chi non ha giocato l'uno l'alba non era un corpo diciamo una fazione di cui il nostro personaggio faceva parte prima di iniziare l'avventura e qua sono altre abilità morcon fuori legge chierico ci sono tante cose anche per il jetpack possiamo migliorare abbiamo l'inventario con tutti i nostri oggetti e poi abbiamo il registro che ci dà le missioni che abbiamo la mappa che abbiamo già visto il glossario con le bestie che abbiamo scoperto finora con anche l'animazione cioè la cura di per se c'è non è che state giocando una cosa che capita di rado però nel mondo dei videogiochi capita che esce quel gioco che è super ambizioso e poi fa cagare che non ha nulla cioè questo ha una lore perché comunque ha già un titolo alle spalle e ha un team che fa giochi di ruolo da sempre quindi non stiamo parlando al netto dei problemi evidenti tecnici di una roba raffazzonata c'è la lore ci sono le cutscene ci sono i dialoghi anche troppi volendo cioè c'è tutta la parte gioco di ruolo dietro quindi ci hanno presi completamente la sua vista durante il torno di notte un attacco sorpresa il gioco all'inizio sembrava non dovesse essere neanche in italiano poi alla fine l'hanno tradotto i morti il loro gruppo più grande sta già tornando verso nord dove è dex dove è mio figlio questi erano quelli della fazione della sua madre l'ha portato con sé si è messo a seguire morcon verso nord non credo per pace finché non erano uccisi tutti puoi curarmi certo posso darti qualche fiaschetta ma adesso ci serve sì sì certo sto bene sono solo stato mosso da quelle creature infatti sì ci hanno morso e abbiamo una malattia insomma questo è in sintesi abbiamo risposto in modo sarcastico e la distruzione è aumentata quindi il nostro allineamento è aumentato io adesso non voglio spoilerare nulla però ecco quello che lamentavano anche le recensioni erano se voi mettiamo caso questo un diciamo un villaggio di nemici li uccidiamo tutti ne lasciamo uno quello li continua a vivere per conto suo dopo un po si allarma dopo un altro po torna normale ricomincia a fare la sua routine ma quanti giochi sono così praticamente tutti quindi non non teniamoci in giro cioè ovvio questo qua è il gioco che secondo me non è non non va bene per il 70 75 per cento della gente ma perché è un old style cioè non è fatto hanno sempre fatto i giochi così e non so spiegarmi se hanno dei limiti tecnici per cui non riescono ad andare oltre però non è cioè abbiamo fatto questo pezzo di strada qui di una mappa cioè così adesso io non so se si possa arrivare fino qui però cioè voglio dire chissà quante case quanti segreti quanti nemici ci sono qui all'interno chissà dove sono le corporazioni le città delle corporazioni bisogna farsi valere bisogna farsi accettare dalla corporazione quindi ci sono le missioni che ti danno all'inizio ti sali di grado vieni accettato ti fanno tutta la riunione in cui ti spiegano ti danno magari la loro armatura questa è la logica dei pirani bites allora diamo un'occhiata al fabbro guardate le spalle qui anche se è un posto difficile problemi ovviamente ci sono le sequenze ok per vedere hai un'arma puoi migliorare la mia arma non ho tempo per noi ordine ma una piccola fucina su e usarlo sei benvenuto ok abbiamo anche anche quello puoi insegnarmi qualcosa puoi insegnarmi queste in sintesi si comprano le skill quindi ci chiede moneta punti abilità no ci chiede solo punti abilità in pratica non possiamo andare ad apprenderle quando vogliamo pagando ma quando abbiamo il punto abilità andiamo dal fabbro e ci insegna queste solo del ramo della creazione invece il market è molto classico con la classica schermata dove scegliamo cosa acquistare o soprattutto cosa andare a vendere e adesso come ultima cosa andiamo a vedere il crafting uno dei crafting perché alla fine vedete anche quando vi muovete cioè se voi non ci fate caso vi prendete l'abitudine venite qui e bene se siete abituati con altro con un destiny che non c'entra niente una fava con questo però che è ottimizzato e di un certo livello tecnico diverso qua magari vi incastrate qui ma che vi fa l'idea cioè vi abituate vi piace vi muovete io sono cresciuto con i gothic con i reason quindi per me problemi non ce ne sono la questione è il tempo quello è un altro discorso possiamo creare e modificare un oggetto quindi praticamente abbiamo la nostra nostro tubo di piombo danneggiato possiamo ripararlo no requisiti forza 10 tv ok ci diventa ok ci servirebbe al maiolo a livello 1 lo ripare poi possiamo cliccare e ci diventa più uno di danno diventa tubo di piombo normale ok questa è una cosa vabbè poi ho visto dei commenti veramente ignobili nei confronti di questo gioco del tipo non che gioco di ecco che schifo di qui di là non lo comprerò mai è ridicolo che risca oggi ma questo è per i nostalgici e per i vecchi giocatori doppio clic vedete andando avanti ci fa la rotolata stessa cosa che fa con il contro però in combattimento magari per due volte ci può essere comodo una volta non si poteva neanche entrare nelle case e rubare la roba alla gente adesso forse si può fare prendo tutto perché una volta ci venivano a prendere cioè se entravamo in casa entravano e ci dicevano esci da qui oppure se sguainavamo l'arma tutte le guardie probabilmente non lo fanno qui si mettevano allerta e se non la infoderavamo a breve iniziavano ad attaccarci comunque qui c'è un sacco di roba da esplorare gente con cui parlare perché qui classici giochi in cui questo è un guerriero non è nessuno però mi potete mettere a parlare in città con un sacco di gente adesso voglio andare lì in alto e vedere un po di panorama del di questo gioco giusto così per sapere cosa mi aspetta ed è uno di quei giochi dove magari ci giocate 20 ore e dopo 20 ore il gioco vi cambia totalmente perché siete diventati abbastanza forti per per fare la voce grossa magari con determinati personaggi quindi è figo per questo c'è una percezione della crescita del personaggio che ben pochi altri giochi danno questo è è l'idea che voglio dare di questo gioco cioè non sono qui per consigliare perché ormai l'idea di convincere la gente a giocare mi è un po mi è un po passata nel senso che io vi dico quello che penso io vi dico cosa credo e soprattutto a quali persone secondo me a chi penso possa piacere però poi sta a voi nel senso che vi faccio vedere com'è tecnicamente lo sforziamo un po per vedere com'è ma di sicuro secondo me il parere mio finale così poi concludiamo è decisamente indietro come la parte la grafica che ha alti e bassi secondo me perché la grafica così del personaggio delle cutscene sono bellissime e tante cose sono migliorate poi altre cose come queste rocce si va dietro di 15 anni però pazienza sono grossi i difetti di tecnici di poi quello che mi ha visto che magari mi finisco cammino troppo finisco dentro la cassa cose del genere sono gravi per il giorno d'oggi ma sono tranquillo perché so che giocandoci mi abituo e inizio a calibrare i miei movimenti su quello che è il gioco quindi quello è un problema secondario ma la cosa su cui io sono assolutamente tranquillo è la qualità di tutto quello che sta oltre il mondo di gioco adesso di là stiamo guardando di là c'è la città quella che vediamo là in fondo c'è la montagna ma io so che ad esempio laggiù lo sto guardando adesso laggiù c'è qualcos'altro c'è un edificio c'è sicuramente un villaggio di qualcuno là magari c'è un'altra fazione e là sotto c'è qualcosa magari là sotto ci sono dei nemici ci sono dei dei briganti non lo so là in fondo ci sono anche di là le montagne so che fino alle montagne si arriva quindi tante cose da vedere ci sono vedete c'è tecnicamente insomma però cavoli adesso siamo qua in una zona che cos'è questa qui si può parlare mi fanno entrare mi combattono sono nemici vi faccio vedere anche come vi sdrumano all'inizio perché all'inizio vedete che la vita discende e un colpo sono morto quindi voi potete deprimere e disinstallare il gioco dire ok questa qua è una zona me la tengo a mente appena mi prendo armi ci riprovo perché è evidente che noi siamo appena usciti da da casa nostra abbiamo appena iniziato il gioco è normale è un gioco molto punitivo ma che vi dà le giuste soddisfazioni una volta che salite di livello una volta che vi potenziate soprattutto una volta che magari la storia le quest vi mandano in giro per il mondo vi fate le vostre missioni vi ottenete il vostro equipaggiamento e scegliete con chi stare poi sicuramente adesso so che avete visto questo video vi andate a vedere magari qualche recensione qualche riassunto magari dell'inizio della trama in cui vi spiegano un pochino quali sono le fazioni e vi fate un'idea però io ho voluto analizzare quel qualcosa che magari avete letto solo testualmente in una recensione piuttosto che magari avete visto altra gente che ci giocava ma non avete magari visto con mano così con calma l'aspetto tecnico adesso vedete sto tizio qui è caduto io prendo la pozione curativa dell'Elex questo cosa? pane all'aglio chissà se è una citazione questo qualcosa bevanda l'Elex vedete sto già iniziando a prenderci la mano ho preso anche degli scarti ci sto prendendo la mano quindi sto già notando meno i problemi fatto che prima sono rimbalzato su un ramo cioè poi l'acqua è molto bella cavolo è molto bella l'acqua cioè alti e bassi ma dietro c'è una libertà eccezionale non do voti non lo faccio mai fatevi spero di avervi dato un'idea spero vi facciate un'idea e spero anche che la vostra idea me la diciate qua sotto nei commenti intanto lì io vado ad esplorare quel piccolo molo allora amazite intanto vi esce amazite anche lì a lato quindi capite cosa state vedete io adesso qua ho fatto un movimento di troppo col pad non capita però può essere scomodo tanto li prendete se siete dei looters le prendete andate via ve ne fregate cioè dipende quanto vi indignate fate gli indignati a dire no un gioco così non è possibile perché dietro veramente c'è tanto l'ho già detto 30 volte in questo video in questo gameplay quindi oh ragazzi ora tocca a voi fatemi sapere cosa ne pensate adesso intanto io vado a morire contro questo che ovviamente di solito i nemici iniziali sono abbastanza vedete che è un livello livello col teschio quindi vuol dire che si schiatta istantaneamente quindi il livello sopra la testa del personaggio vi dà un'idea quindi eventualmente se vi interessa se me lo dite qua sotto ci si può fare una o più live per intanto fatemi sapere alla prossima e ciao ciao